Un saluto a tutti e benvenuti ad Open, come ogni anno dalla Città del Libro, tredicesima edizione della Città del Libro 2007, benvenuti a tutti voi ovviamente in quella che è una manifestazione cui il Salento tiene moltissimo, di cui sono personalmente innamorato perché la seguo ormai da diversi anni, ma forse mai come quest'anno vedo una partecipazione così corposa da parte di tanti giovani e non solo, quindi benvenuti a tutti. Oggi presentiamo questo libro ed è un gran bel libro, un libro sostanzioso, edito da Besa, è un libro di Maglio Castronuovo che saluto subito perché è qui a fianco a me, a cui veramente dobbiamo fare un applauso e vi spiego subito perché. Il titolo del libro è Vuoto a perdere, le Brigate Rosse, il rapimento, il processo e l'uccisione di Aldomoro con la prefazione di Giovanni Pellegrino, che saluto e ringrazio per la sua presenza qui. Presidente della provincia di Lecce, ma come molti di voi sapranno, anche ex Presidente della Commissione, di una Commissione che ha tentato, in gran parte ci è riuscita, di far luce su tanti aspetti della storia d'Italia. Poi chiederò perché ha scelto la prefazione di Giovanni Pellegrino, oltre a questo motivo che ovviamente è un motivo quasi tecnico, un personaggio molto importante nella storia della politica salentina e non solo, l'onorevole Giacinto Urso che ai tempi militava nella democrazia cristiana, benvenuto l'onorevole Urso, un giornalista, un giornalista ma un giornalista che ha avuto anche un'importantissima militanza politica nella democrazia cristiana prima, nel Partito Popolare Italiano, poi Tonio Tondo, grazie Tonio per la tua presenza qui alla città del libro. Dicevo, un libro interessantissimo e che io rispetterò molto, lo rispetterò molto innanzitutto perché ha una caratteristica che raramente i libri, soprattutto i libri che in qualche modo appartengono al filone della saggistica, ha la caratteristica di farsi leggere di getto, cioè una pagina incuriosisce a girare pagina, un capitolo e un paragrafo incuriosiscono a proseguire nella lettura e poi dicevo che merita un applauso veramente perché? Perché Maglio Castronuovo, l'autore, non è il classico professore universitario di storia contemporanea, Maglio Castronuovo è un consulente di marketing che supporta lo sviluppo e la competitività delle piccole e medie imprese, qui diciamo che nella vita fa tutt'altro e nel tempo libero porta avanti da sempre una sua personale ricerca nelle zone d'ombra della storia contemporanea italiana di cui sicuramente la Fermoro è uno dei momenti più importanti. Per cui io non voglio rubare molto tempo nella mia presentazione perché già moltissimi di voi si sono prenotati per gli interventi, oltre dieci persone, per cui inviterò tutti sul palco a fare una brevissima domanda ai nostri ospiti, io farò un brevissimo giro iniziale partendo ovviamente dall'autore cui chiedo proprio l'esperienza personale e la scrittura di questo libro quasi nei ritagli di tempo frutto del lavoro di anni però. Intanto un buongiorno a tutti, chiaramente è importante che in un evento così, con un argomento così chiaramente particolare ci sia un pubblico prevalentemente di giovani perché purtroppo il dramma di quegli anni è che si fatica a superarli, a conoscerli bene proprio perché forse c'è anche una carenza di linguaggio nel parlare di quegli anni, quindi è importante che le scuole abbiano raccolto questo invito. Io mi auguro che abbiano anche fatto poi dei lavori critici e mi rendo disponibile comunque a parlarne con eventualmente chi volesse poi approfondire ovviamente all'interno della scuola. Dicevo, vorrei fare soltanto un piccolo inciso. Ciliberti diceva che il libro è facile da leggere una pagina a tirare l'altra. Essendo io un semplice appassionato di questo argomento e non un tecnico e quindi non avendo tra virgolette un pedigree o degli interessi particolari da dover difendere, il mio primo problema è stato proprio quello di trovare una forma nuova e diversa rispetto ai libri, come dire, alla sterminata bibliografia sul caso Moro tutta, devo dire, salvo rarissime eccezioni di grande qualità. Sono partito da due osservazioni importanti. Uno, quasi tutti i libri sul caso Moro, ma in generale sugli anni settanta, utilizzano un linguaggio molto tecnico, sono dei libri per gli addetti ai lavori. Io non volevo fare l'ennesimo lavoro. E dando per scontata la conoscenza di tantissimi aspetti di quegli anni che tu non devi scontare. Sono delle inchieste che però poi dopo non sono finalizzate a una divulgazione, sembra quasi un parlare tra tecnici. In secondo luogo, e secondo me questa è la carenza più grave dal punto di vista della divulgazione, comunque aderiscono ad una delle due tesi prevalenti, cioè o c'è stato un grande complotto internazionale di cui le BR erano un semplice braccio operativo oppure no, non è vero la cosiddetta tendenza revisionistica o vantologica, è tutto chiaro, non c'è più niente da scoprire. Naturalmente io ho cercato invece di fare un lavoro, più che una terza via come l'ha chiamata il Corriere, un mettere insieme queste due visioni, partendo però dai fatti, lasciando quindi al lettore poi il formarsi un suo giudizio critico su dati di fatto. L'obiettivo del libro fondamentalmente è cercare, come diceva Fellini, non dimostrare qualcosa, ma mostrare agli altri e quindi portare tutti quanti a far proprio il problema per poi poterlo discutere e confrontarsi con gli altri. Ecco perché al seguito del libro c'è un sito internet che non pubblicizza più di tanto il libro, nel senso che non è l'obiettivo di pubblicare il libro, ma che coinvolge i lettori che con i loro contributi, con le loro discussioni alimentano un cosiddetto movimento dal basso. Fra un po' aprirò anche un blog, ci sono già una serie di interventi, chiaramente sto aspettando di avere un minimo di massa critica, perché è possibile commentare, perché deve essere possibile discutere e fare emergere tutte le possibili riflessioni sulla materia. Questo è stato l'obiettivo, io mi auguro che chi ha avuto il piacere, immagino, di leggere il libro, possa essersi ritrovato in queste parole che dico e come mi chiedeva Ciliberti, naturalmente la scelta del Presidente Pellegrino non è stata soltanto per la sua grande esperienza nell'ambito del settore, ma anche perché ho visto una sorta di filo conduttore che lega questo lavoro fortemente al Salento. Giovanni Pellegrino è un salentino doc, Aldo Moro era un salentino, nel senso che era di maglia, il progetto è partito da me come autore salentino, l'editore è un editore salentino come la Besa che tra l'altro, apro e chiudo una parentesi, dovete sapere che io infatti in genere alle presentazioni saluto sempre gli amici della Digos che da tre anni ho il piacere di avere sul telefonino e nella casella della vostra elettronica, però dovete sapere che non è facile parlare di questi argomenti, io un sacco di editori mi hanno chiuso la porta in faccia, mi hanno detto no, l'argomento non ci interessa oppure non c'è niente di nuovo, oppure addirittura non mi hanno neanche risposto, hanno visto il manoscritto e poi non mi hanno neanche risposto. La Besa invece, devo dire, ha apprezzato l'approccio, ha apprezzato la struttura modulare, ha apprezzato l'onestà intellettuale e ha avuto anche il coraggio poi di fare suo come progetto, quindi un grazie davvero a tutti e vorrei ripassare la parola a Ciliberti. Grazie a Maglio Castronuovo, poi lascio comunque il microfono perché puoi intervenire in qualsiasi momento, il sito internet su cui di fatto prosegue la lettura di Vuoto a Perdere www.vuotoaperdere.org e lì troverete dei contenuti extra rispetto al libro, un po' come si fa con i cd degli autori importanti e poi troverete uno spazio di commenti che si trasformerà, come ha annunciato lo stesso autore, a breve in un blog. Il senatore Pellegrino scrive nella sua prefazione, che è una breve prefazione, che in trent'anni innumerevoli testi hanno in qualche caso contribuito a fare confusione, da questo punto di vista questo lavoro di Maglio Castronuovo ha un merito importante, quello della chiarezza. direi di sì, io penso che il libro di Castronuovo precederà nell'anno che verrà una serie di altri libri sulla vicenda Moro, perché siamo alla soglia del trentennio, il 2008 saranno trent'anni del ravimento della morte di Moro e quindi già dopo il libro di Castronuovo è venuto fuori il libro di De Luzis e altri ne seguiranno. In tutta questa letteratura si possono scontrare due posizioni estreme, quelli che sostengono che ormai sul rapimento di Aldo Moro si sa tutto, che alcuni punti non chiariti sono punti marginali, che anche se venissero chiariti non cambierebbero lo scenario e quelli che invece sostengono che del caso Moro ancora non si è capito niente, che le Brigate Rosse abbiano agito sul bandato internazionale e che lo stesso svolgimento dell'attacco di Viafani, della prigionia di Moro, della sua condanna a morte, della sua esecuzione, sono completamente diversi da come sono stati accertati dai giudici. Direi che il libro di Castronuovo si pone opportunamente a metà di queste due tesi estreme, analizza con grande cura tutta la fase dall'assalto di Viafani allo spostamento del prigioniero verso la prigione di via Montalcini, il periodo della prigionia, il processo politico in cui Moro viene sottoposto, la possibilità che ci siano state trattative, gli ultimi giorni della prigionia e la morte. E caso per caso enumera quali erano stati gli elementi di dubbio, dice quali sono a suo avviso dubbi non fondati perché già chiariti e lascia spazio invece a campi di indagine che riguardano i vari aspetti del sequestro. Il libro, come ben hai detto due, è un libro aperto che ognuno di noi potrebbe aggiornare se ne avesse voglia, capitolo per capitolo, a mano a mano che nuove notizie e nuovi accertamenti verranno eseguiti e tutto sommato io lo ritengo fra le cose migliori che sono state scritte sul caso Moro. Innanzitutto per questo metodo che è innovativo e che tu hai già sottolineato. Il secondo perché opportunamente non assume la posizione di chi dice non si è capito niente, chi sa chi c'è dietro, ma nemmeno assume la posizione di quelli che dicono che tutto è chiaro. Io qui vorrei fare un'ipotesi a cui vorrei che Castronovo desse risposta, se può darla. Secondo me lui è in possesso di informazioni e di fonti che non tutti abbiamo. Ho l'impressione per esempio che lui debba aver avuto la possibilità di parlare direttamente o indirettamente con Azzolini e Bonisoli, o perlomeno con quelle persone che erano vicine. Per esempio lui sa chi era il padrone della casa dove nell'agosto del 1978 Piperno riuscì ad incontrare Moretti perché voleva sapere se i messaggi che loro avevano mandato, loro di potere operai, che avevano mandato alle Brigade Rosse tramite Morucci fossero stati o non fossero stati trasmessi. Ecco io ho l'impressione che lui abbia delle informazioni che indubbiamente gli hanno consentito di ritenere più chiari alcuni particolari che per esempio a me sembravano nebulosi. Poi però non so se rispondendo alle domande dei ragazzi io sono fra quelli che ritengo che Moro sia stato preso prigioniero delle Brigade Rosse, che le Brigade Rosse erano un fenomeno prettamente italiano, erano la punta dell'iceberg di una stagione terribile che il Paese ha vissuto in cui cari ragazzi un'intera generazione di italiani, donne e uomini della vostra età fecero scelte politiche estreme e molti di loro ricorsero alla violenza sanguinaria delle armi. Gli uni per inverare un'improbabile dittatura del proletariato, gli altri per trasformare una giovane democrazia in un sistema autoritario. Moro era il principale uomo politico del Paese, se non spieghiamo questo non capiamo perché dopo trent'anni ne stiamo ancora parlando. Le Brigade Rosse erano la punta più avanzata della versione di sinistra, una formazione che vive tuttora, l'importanza delle Brigade Rosse sta nel fatto che oggi, mentre stiamo parlando, le Brigade Rosse ci sono ancora e questo non è comune nella storia dei movimenti terroristici, perché nascono nel 1973, mentre parliamo nel novembre del 2007, quindi sono passati trentaquattro anni, formazioni combattenti che in termini di continuità sostanziale, perché qui diciamo l'indagine che facemmo come commissione di stragi poi ha avuto conferme, in realtà il gruppo della Lioci, di Morando e degli altri erano una continuazione delle vecchie Brigade Rosse. La Lioci era stata già attinta dalle indagini intorno all'omicidio Ruffilli e Morandi intorno all'omicidio di Lando Conti, quindi erano persone delle vecchie Brigade Rosse che poi si sono riorganizzate e si sono ricostituite. E quindi la vicenda di Moro è una vicenda che segna profondamente la storia della politica italiana, la stessa scelta se trattare o non trattare con le Brigade Rosse e quindi l'ineludibilità della sua condanna a morte e della sua esecuzione è ancora oggi oggetto di una discussione politica. Quindi direi che la figura di Moro è una figura attuale, la vicenda del suo rapimento, della sua morte è una vicenda attuale e poi dirò però perché secondo me pur ritenendo che in grandi linee quei 55 giorni sono stati ricostruiti su una serie di fatti, qui forse la mia valutazione è più intensa di quella di Castronuovo, i brigatisti non hanno raccontato la verità e quindi ci sono una serie di aspetti del sequestro su cui ancora noi non sappiamo come sono andate veramente le cose. Abbiamo la fortuna di avere a fianco proprio al senatore Pellegrino un testimone importante dell'epoca, che era l'epoca Moro come personaggio più importante della politica italiana. Io chiedo all'onorevole Urso, che ha letto il libro di Maglio Castronuovo, di tentare di spiegare a tutti noi, essendo io vicino alla vostra età, anagraficamente quello che era veramente lo scenario culturale, sociale, giornalistico dell'opinione pubblica in quegli anni e in quei giorni in particolare, all'interno del Paese e del Salento in particolare, che aveva un'attenzione in più nei confronti di Moro per le origini che aveva questo statista. Che io chiamo statista. Io sinceramente faccio un po' fatica ad intervenire su questo tema, anche per motivi personali e intimi, perché come lei accendava, ho avuto la possibilità di godere della sua amicizia, di scambiare frequentemente i nostri pensieri, sia nell'interno del Partito della Democrazia Cristiana e sia in Parlamento, ma anche fuori da questo ambiente politico e da questo ambiente parlamentare. Non sempre ho condiviso i suoi pensieri, però ho mantenuto come si doveva, dialogo e rispetto, e lo incontrai due giorni prima del rapimento, sentì anche quali erano le sue angustie sul momento politico e aveva anche con sé delle amarezze personali per quello che si scriveva sul suo conto circa tutti questi marchigegni per formare quel nuovo governo preseduto da Andreotti. Io cercai, così umilmente anche, di dire qualche parola quasi di conforto, la sua autorevolezza non aveva bisogno, e dissi che poi, in fin di conti, nel contesto della democrazia cristiana e del Paese, si voleva bene a Moro, anche perché era una figura prestigiosa e sicuramente pulita. Lui mi lasciò con una frase molto amara, e ogni tanto queste frasi le ho raccolte altre, quando mi richiamava a certe prudenze, diceva prima di parlare taci, e mi invogliava quindi meglio a pensare, ad essere cauto. Quella sera, ripeto, due giorni prima del repimento, di fronte a questa mia elegia della sua persona, mi disse, ricordati che di bene si può anche morire. Qualcuno può vedere in queste parole, che so, così quasi un destino dell'uomo, ma così non era, cioè lui manteneva sempre questi aspetti di scetticismo. Devo aggiungere ancora che oltre al momento politico che ho convissuto, non certo da protagonista, io sono stato sempre un uomo politico di periferia, ma da osservatore, devo dire che mi toccò anche una triste occasione, quello cioè che mentre con l'onorevole Cagliati mi avviavo verso piazza del Gesù per conoscere qualche notizia sulla sua sorte, ci imbattempo proprio in via a Caetani e quindi, deviso, ho dovuto vedere, ecco, questo uomo rannicchiato in un'arena rossa, con gli occhi socchiusi, ripiegato, con una coperta buttata così lungo il suo corpo, una scena veramente orribile che ancora è impressa nei miei occhi. Quando lei mi domanda qual era il momento politico, ma il momento politico dell'uccisione di Moro, del rapimento e dell'uccisione, credo che sia noto a tutti. Si andava ad una svolta politica di rilievo, si aveva un governo Andreotti che proprio quel giorno doveva ricevere il voto di fiducia delle Camere e questo fatto impensieriva molta gente, sia nel contesto italiano, ma per quel che pare anche nel contesto internazionale, anche perché... Ragazzi, perché per la prima volta i comunisti... Ecco perché, dico, ecco perché... Con il microfono anche al Presidente Pellino così interagite, ma... No, cioè, volevo dire perché era la prima volta che i comunisti uscivano a scena aperta a sorreggere il governo Andreotti. Poi a sua volta tutto questo era stato preceduto da un appassionato suo discorso rivolto ai gruppi parlamentari, dove ero presente come deputato, per convincere innanzitutto noi stessi, cioè per convincere i democratici cristiani, a comprendere la gravità dell'ora, a comprendere anche l'importanza della scelta e quindi possibilmente a condividerla. Quindi questo disagio era grosso nel Paese, era grosso, non so se poi le bricate rosse si siano mosse anche per centrali estere, qualcuno ha riferito di un burrascoso colloquio tra l'onorevole Moro e l'allora ministro degli esteri americano Kissinger, tutto questo, che si dice però su questo dobbiamo stare, come devo dire, molto accorti. Io sono rimasto impressionato, caro Presidente Pellecrino, caro Antonio Tondo e caro autore del libro, caro Ciliberti e cari amici tutti, anche di una recente intervista da parte del mio amico fraterno Cosiga. Abbiamo la stessa età e quindi un po' di rimbambimento ci accompagna, almeno certamente mi accompagna, perché sentir dire che a un certo punto il cerotto che portava, derivava da una lita in famiglia, ecco mi sembra tutta questa storia romanzata di fronte invece a uno scenario politico che lei mi sollecitava così a ricordare, che era molto pesante, era molto gravo, era innovativo e veniva a scompigliare le carte. Oggi si dice che si scompigliano le carte pure per il PD e per l'iniziativa per Rosconi, ma l'iniziativa di Moro in quei tempi era così, un'iniziativa proprio fuori da quelli che erano stati i paletti tradizionali. Che cosa dire? Ecco, io vorrei solamente annotare una cosa per quanto riguarda il libro di Castronuovo. Mi complimento, mi complimento anche con la nostra abbesa, perché ogni tanto a questi nostri editori non è che dobbiamo fare solamente l'omaggio delle parole, ma dobbiamo anche rendere testimonianza di quanto coraggio hanno oppure a pubblicare specialmente questo tipo di libri. E mi è piaciuto il proprio Castronuovo perché dice a chiare lettere non è quasi mai possibile quando si parla del caso Moro di essere portatori di affermazioni perentorie e definitive. E allora lui fa un'attenta ricostruzione, forse non si sofferma molto su quel tempo politico che viviamo, ma è un problema anche forse generazionale. Se io fossi stato capace di scrivere, non sarei stato capace di scrivere un libro sulla Fire Moro, certamente mi sarei forse più mantenuto su che cosa accadeva in quel momento, sia a livello nazionale e poi con ripercussioni anche nella nostra periferia. Ci fu un comitato provinciale, come devo dire, caro Tonio, se ti ricordi, epico, se bisognava essere per la linea della fermezza o invece bisognava rispettare la scelta che avevano fatto alcuni per la trattativa, come i socialisti. Quindi anche in periferia questo fatto si sentiva in questa periferia, maggiormente perché pur essendo deputato di Bari la sua radice nativa era certamente qui da Lecce, che amava a modo suo. Anche questo bisogna un po' forse ricordare, non era certamente l'uomo che poteva essere una specie di di crollalanza, i giovani non lo sanno, un grande ministro che prese un bilancio intero dello Stato e fece Bari come la fece, era un uomo molto pagato su questo piano, quindi non è che aveva una grande tifoseria. Un'ultima osservazione che vorrei fare. Noi parliamo intorno a questo affare Moro sempre. Io credo, Presidente Pellegrino, che il commento più appropriato, cari amici, che si possa fare a queste nostre divagazioni, è proprio quello di Renato Curcio. Renato Curcio, lei riporta una frase che io sconoscevo, di Renato Curcio la devo dire, vabbè ne sconoscevo tante, ma questa in particolare perché vedete quanto è sibillino, ecco, Renato Curcio, perché, si domanda, ci sono tante storie in questo Paese che vengono taciute, come Piazza Fontana, come Calabresi, che sono andate in un certo modo e che per venture dalla vita nessuno si può dire come sono veramente andate, sorta di complicità tra di noi e i poteri che impediscono ai poteri a noi di dire cosa è veramente successo, quella parte degli anni settanta, quella parte di storia che tutti ci lega e tutti ci disunisce, cose che noi non riusciamo a dire perché non abbiamo le parole e le prove per dirle, ma che tutti sappiamo, ecco, e in questo tutti sappiamo che forse è proprio collocato l'affair Amoro, che tutti sappiamo, che pochi dicono, per cui, ecco, bisogna ringraziare quegli autori come Castronuovo che hanno fatto questa cronistoria, però quelli che potrebbero parlare ancora non parlano. Grazie all'onorevole Urso, in me persiste l'animo dell'indagatore, vorrei dire all'amico Urso che a quella frase di Curcio, che Curcio pronuncia in un discorso di commemorazione di Rostagno, io ho dedicato diverse pagine, sia di relazione della Commissione, sia del libro Segreto di Stato, però a te vorrei fare una domanda, ma quando lui ti disse delle idee si può ancora morire, quando Moro ti disse per le idee si può anche morire, più o meno hai detto questa frase, tu avresti l'impressione che lui avesse una paura per la sua incolumità fisica? Perché questo è uno dei punti in discussione, la famiglia Moro ha sempre detto che Moro era preoccupato, aveva chiesto l'auto blindata e non l'aveva avuta, in fondo in quell'intervista di Cossiga riecheggia questa vecchia polemica fra il Ministro dell'Interno e la famiglia Moro, e che il capo scorta, Leonardo, era molto preoccupato, cosa che è un po' contraddetta dal fatto che in realtà in Via Fani ci avevano i mitra nel portapagalli, se fossero stati preoccupati in realtà le avrebbero tenute ai piedi per poter rispondere subito al fuoco. Quindi questo è uno dei punti non chiariti della storia, perché la famiglia dice che lui era preoccupato dell'incolumità fisica, Leonardo era preoccupato, eccetera, e invece poi ci sono segnali che così non fosse. Lei ebbe questa impressione in pochissimi secondi, onorevole Urso? Io, guardate, io l'ho trovato molto turbato quel giorno, erano due giorni prima, però questo faceva parte pure del suo essere e del suo atteggiamento. Lo trovai molto turbato, però era anche l'uomo dei silenzi, cioè le preoccupazioni non è che le sternava, quasi quasi erano preoccupazioni che venivano da certi gesti, anche batter ciglio certe volte. Era la solita preoccupazione per le sorti del Paese. Cioè io pensai che era solamente una sofferenza interna e che non avesse proprio questi grandi timori. D'altra parte, come ha notato il Presidente Pelegrino, quella mattina, in fin dei conti, lui aveva un itinerario ben preciso, doveva andare in chiesa, portava le borse, portava documenti, pare, in queste borse molto importanti. Però, ecco, lui poi era anche, come devo dire, ostaggio, la parola è brutta, ecco, della provvidenza in cui lui credeva, ecco. Tonio Tondo, cosa possiamo aggiungere sul ritratto dell'uomo Aldo Moro? E poi vorrei anche un racconto brevissimo per cenni del dibattito salentino, no? Dell'epoca durante il rapimento di Moro, di cui lei si dice parte. Sì, io però vorrei approfittare un momentino della presenza dei ragazzi, perché, secondo me, questa figura, tanto è una figura straordinaria. Castronuovo si chiede, ma perché Moro? Perché non Andreotti, non Taviani, non Cossiga, non un altro esponente politico. Perché Moro? Beh, dobbiamo dirlo, Moro era l'uomo più in gamba, più intelligente e più straordinario di quell'epoca storica. Aveva una capacità di lettura degli avvenimenti, di lettura delle trasformazioni della società. E quindi aveva una cultura anche, come devo dire, molto sensibile, molto aperta, aperta al dialogo. Tra l'altro è l'uomo che dice perché la democrazia italiana superi la sua debolezza, occorre che i due grandi partiti dell'epoca, cioè la democrazia cristiana e il partito comunista, si confrontassero. Mentre oggi si dice o di qua o di là, allora Moro era l'uomo invece del dialogo, dell'apertura. Anche fra posizioni lontanissime. Anche tra posizioni lontanissime. Questa grande capacità culturale, secondo me, è uno degli elementi che spiazzano un po' la politica anche dell'epoca. Ci stanno due lettere. Mi scuso un momentino, io ho detto all'autore, a Castronomo, ho detto guarda, nel tuo blog, nel tuo sito, introduce anche queste lettere che fanno conoscere l'uomo Moro. Lui scrive delle lettere dal carcere brigadista, le scrive ai suoi familiari, a sua moglie soprattutto, ma anche ad amici, anche ad esponenti politici. Una delle prime lettere, io ve ne cito due, una di carattere politico e l'altra di carattere intimo, perché c'è un Moro politico, ma c'è poi un Moro padre di famiglia, genitore, nonno. Le lettere più belle, le parole più belle, Moro le dedica al nipote Luca. Torno solo perché sul sito internet www.vuotaperdere.org si può scaricare proprio il memoriale, per cui... No, ma io parlo delle lettere. No, no, giacché però, giacché lo possiamo dire. Allora ci stanno, allora ci stanno. E penso che i ragazzi debbano conoscere, diciamo, il pensiero, l'animo dell'uomo, perché questa è una storia, è un po' da tragedia greca, no? Cioè, è un uomo importante, ma anche padre di famiglia, che viene sacrificato, viene sacrificato, viene sacrificato in nome, e noi dobbiamo capire in nome di che cosa. È vero che ci sta una verità processuale, ci stanno tante cose che ancora... Però noi abbiamo il dovere anche di capire le cose. Quando studiamo, non so, le tragedie greche, dice, ma perché Medea ammazza i figli contro Giasone? Perché, diciamo, i personaggi della tragedia greca... Non so, perché a te... Come si chiama quella donna straordinaria che vuole il cadavere del fratello morto, no? Come si chiama? Euridice, come si chiama? Come? Antigona, bravissima, ecco. Allora, Moro è andato l'altra sera a Roma, è stata fatta una rappresentazione teatrale. Allora, dice Moro a Cossiga, in una lettera, dice, mi trovo sotto un dominio pieno e incontrollato, sottoposto a un processo popolare. Cioè, lui è nelle mani dei brigadisti che lo sottopongono a un processo popolare, perché gli indi dicono, guarda, questo sistema fa delle ingiustizie, provoca... Tu sei l'esponente massimo di questo sistema, per questo ti abbiamo preso per processarti. E poi dice una cosa straordinaria. Dice, caro Cossiga, il sacrificio degli innocenti, in nome di un astratto principio di legalità, No, il principio di legalità... Ora troviamo l'originale, troviamo... Sì, sì, sì. O meglio, troviamo quella trascritta... Mentre no, dice, mentre un indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurre a salvarli è inammissibile. Cioè, il sacrificio degli innocenti è inammissibile, in nome di un astratto principio di legalità, mentre un indiscutibile stato di necessità dovrebbe indurre a salvarli. Che cosa significa questo? Ok, Gesù. Mentre gli esponenti politici fuori dalla prigione dicevano dobbiamo salvare la sicurezza dello Stato, dobbiamo salvare le istituzioni democratiche, il popolo è contrario alla trattativa, Moro introduce un elemento, dice, ma vale di più la vita di una persona oppure un astratto principio di sicurezza dello Stato? Ecco, questa è la grande domanda. Vale più la vita oppure il potere dello Stato? E poi vi cito questa lettera del 5 maggio, è una lettera non spedita, non recapitata, a Noretta, dice, mia dolce Noretta, dopo alcune cose dice, bacia e carezza per me tutti, volto per volto, occhi per occhi, capelli per capelli. A ciascuno porta la mia immensa tenerezza che passa per le tue mani, si forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le ore precedenti. E lui ha capito che i brigadisti hanno deciso di ammazzarlo. Si forte, mia dolcissima, in questa prova assurda e incomprensibile. Sono le vie del Signore. Ricordami a tutti i parenti ed amici con immenso affetto e a te e a tutti un caldissimo abbraccio. Pegno di un amore eterno. Vorrei capire, con i miei piccoli occhi mortali, come ci si vedrà dopo, cioè dopo la morte. Se ci fosse luce, sarebbe bellissimo. Amore mio, sentimi stretto con te e tienimi stretto. Bene che poi non scrisse null'altro, no? Questa è l'ultima lettera. Questa è l'ultima lettera a Noretta, almeno quella che viene censita come ultima lettera. Cioè, Moro ha una grande distanza culturale dai brigadisti. I brigadisti lo interrogano, pensano che abbia i segreti della Nato, vogliono sapere le cose internazionali, il ruolo dell'Italia. E Moro invece li guida, anche i brigadisti, guida secondo un itinerario di natura ideale, morale, culturale. Dall'altra parte c'è il potere esterno. Il potere esterno dice dobbiamo salvare lo Stato. Il popolo ci chiede, la gran parte della gente era scesa in piazza per chiedere la linea di fermezza. Moro è schiacciato, è schiacciato tra questi due opposti, tra queste due culture che sono tutte e due culture della morte. Quella dei brigadisti, cari ragazzi, è una cultura della morte perché in nome dell'ideologia processano un uomo per ammazzarlo. Tra l'altro ammazzano un uomo giusto, un uomo mite, non ammazzano uno che magari si è macchiato di gravi nefasti. Quindi Moro respinge questa ideologia della morte e respinge anche l'ideologia e la cultura di chi dice dobbiamo difendere lo Stato a tutti i costi. Le istituzioni devono salvare le vite umane. Ecco, questo dice Moro. In questo Moro che è attento agli affetti familiari, lui che ricorda i nomi degli studenti universitari che lui segue perché lui insegna, in queste lettere e in tutta la ricostruzione anche di Castronò viene fuori questa figura che secondo me è una figura che merita veramente un approfondimento, uno studio, una ricerca e anche una passione da parte di generazioni come la vostra che sono voi siete di 17, 16 anni e insomma questa storia qui è di 70 anni fa. Negli anni 70 molti giovani prendevano la via della lotta armata cercando di fare la giustizia. Adesso mi sembra invece che è meglio assurare. Sì, ci stanno delle come devo dire dei riverberi delle Brigade Rosse però penso che la stragrande maggioranza dei giovani oggi voglia capire voglia soprattutto approfondire questi fatti storici e impegnarsi perché non ritornino più. Grazie a Tonio Tondo noi facciamo qualche istante di pausa dopodiché le vostre domande ai nostri ospiti. Rieccoci nutritissima al di là anche delle più rose aspettative la partecipazione quella attiva da parte degli studenti che vogliono vederci chiaro vogliono cercare di capirne di più e di entrare fino in fondo in questo libro in questa epoca così particolare e difficile per il nostro paese come gli anni 70 della storia d'Italia. Allora primo intervento è Anna Chiara Caforio veramente vi prego di essere brevissimi e del liceo socio-psicopedagogico Palumbo di Brindisi. Vado. Leggendo la parte dedicata alla linea della fermezza ci sembra che se le posizioni del partito comunista italiano di non contrattare per il rilascio dell'ostaggio è abbastanza comprensibile sorgono invece dubbi sul comportamento altrettanto rimovibile dell'ADC riflettendo sulle ipotesi da lei fatte è legittimo arrivare a chiedersi se il governo ebbe una corresponsabilità sulla morte di Aldo Moro chi vuole rispondere a questa domanda Tonio Tondo se l'atteggiamento del PC è in qualche modo comprensibile l'atteggiamento poi finale della democrazia cristiana fa pensare a una qualche responsabilità del partito di Moro nella morte di Moro vi prego Tonio di rispondere veramente in pochissimi secondi ma il partito comunista ha paura che a sinistra si formi una nuova formazione si costituisca una nuova formazione ha sempre avuto paura che fossero legittimate delle forze alla sua sinistra e quindi tra l'altro è impegnato in questo avvicinamento all'area del potere e quindi vuole dimostrare di saper difendere le istituzioni la democrazia cristiana è più tormentata all'interno perché la democrazia cristiana era un partito di ispirazione cristiana e quindi Moro diceva ma come non vi rendete conto che la vita vale più dello Stato come l'abbiamo detto sempre nei nostri seminari nella nostra formazione e la democrazia cristiana è tormentata tanto che si dice che proprio nei giorni in cui le Brigade Rosse decidono di ammazzare Moro nella democrazia cristiana si stava preparando una mozione per chiedere l'apertura di una trattativa i comitati l'onorevole Urso citava il comitato che è nato citava il comitato provinciale della democrazia cristiana della provincia di Lecce del quale pure io ho fatto parte in quegli anni e c'era questo dibattito però questo problema era stato avvocato da alcune da alcune persone da alcune personalità sia del partito sia dello Stato Moro in una lettera se la prende con Zaccagnini il povero Zaccagnini segretario della democrazia cristiana e dice ma come mi hai abbandonato se la prende con Cossiga scrive a Misasi scrive all'onorevole Taviani scrive a diversi esponenti della democrazia cristiana per indurli a trattare dice come anche paesi di orientamento ideologico diverso fanno lo scambio di prigionieri perché non si fa lo scambio di prigionieri anche in Italia vi prego di essere molto più brevi nelle risposte altrimenti non riusciamo a far parlare tutti e venti i ragazzi hanno chiesto di intervenire non bisogna dimenticare che in via Fani è stato rapito a modo ma è stata uccisa tutta la scorta che accompagnava Moro composta di poliziotti e carabinieri e questo ha fatto un'impressione enorme nel paese e quindi anche la fermezza proveniva ecco non solo dal rapimento di Moro ancora non trucidato ma per avere orribilmente ucciso ecco questi servitori simone a distanza di 30 anni il tragico rapimento di Moro ai nostri occhi appare come qualcosa di misterioso e risolto dalla lettura del libro si capisce che tante persone sapevano qualcosa su quel che stava per accadere ma nonostante ciò il rapimento andò in porto come cittadini ci chiediamo davvero che aveva il compito di proteggere Moro lo fece fino in fondo risponde l'autore Maglio Castronuovo brevissimamente questo è il nodo centrale io tra l'altro riporto nel libro un documento inedito che riguarda una testimonianza di un dipendente di un ufficio che si trova proprio su Via Fani che sembra sia riconducibile ai servizi segreti recentemente a un convegno al quale ha partecipato anche il presidente Pellegrino il giudice Priore non so se era un'esclusiva o una novità ha detto che lui poco dopo il rapimento nel corso delle indagini andò in Francia dal DST che è l'equivalente del SISDE e gli dissero che anche loro avevano informazioni ci sono troppi segnali che riporto anche una piccola intervista che era un ex gladiatore ha detto che non si è voluto intervenire perché si stava facilitando un'operazione di un certo genere quindi è come se si fosse coscienti che quella cosa fosse finalizzata anche a favorire un certo percorso politico Carlotta Papadia nel definire Moro un voto a perdere lei si trova in accordo con quanto scrisse Sciascia nel lontano 1978 in l'affare Moro e cioè che l'onorevole Moro fu rapito ed ucciso proprio perché era il meno implicato di tutti ed era però il più solo ed in ritardo nei confronti di una degenerazione del potere democristiano che fino a poco tempo prima sono parole di Pasolini era stato più che altro una pure semplice continuazione del potere fascista no un voto a perdere non c'era un riferimento a Pasolini ma a me ha dato l'impressione che Moro finché era dentro il potere ed era vivo ed era quindi un elemento cardine del potere io l'ho assimilato a un vino pregiato nel momento in cui le BR lo hanno preso e in qualche modo hanno avuto la pretesa di svuotarlo in un certo senso nessuno ha avuto più la voglia la scelta poi di rapire Moro non dobbiamo vederla nel contesto soltanto di quegli ultimi mesi ma viene secondo me dal 75 quando c'è proprio Renato Curcio nel breve tratto in cui è stato libero ha invece posto le basi per un nuovo processo brigadista in cui si passava allo Stato e quindi alla DC e ai suoi minicardi Azzurra Colella secondo quanto lei afferma Moro in una lettera riservata a Cossiga ha suggerito una strada per trattare la sua liberazione le Brigate Rosse però rendendo pubblica questa lettera fornirono allo Stato un motivo in più per sostenere la linea della fermezza quello che vorrei sapere se questa lettera non fosse stata pubblicata ci sono elementi che farebbero credere che forse la DC avrebbe trattato segretamente con le Brigate Rosse infatti alza la mano questa forse è una domanda a cui può rispondere il Presidente Pellegrino può passare il microfono onorevole per foro al Presidente eccolo non c'è dubbio non c'è dubbio non c'è dubbio che quello che fa Moretti a Moro è uno scherzo da prete perché la lettera che Moro manda a Cossiga era una lettera destinata a restare riservata tant'è vero che dice caro Francesco prendete riservatamente contatto con i Vaticani con gli alleati eccetera perché Moretti lo fa perché Moretti era diciamo il capo della fazione militarista delle Brigate Rosse che lui sin dall'inizio vuole portare il terreno dello scontro politico ai massimi livelli possibili e quindi lui vuole lanciare questo messaggio allo Stato noi lo abbiamo prigioniero lui scrive che potrebbe parlare perché il senso della minaccia di quella lettera nel momento in cui viene resa pubblica è la parte in cui Moretti dice sono prete io dovino incontrollato sottoposto a un processo popolare non come persona ma come Presidente della Democrazia Cristiana potrei essere indotto a dire cose pericolose per la sicurezza dello Stato e per l'interesse del partito e quindi Moretti inserisce poi il testo di questa legge in un comunicato in cui dice il processo continua con la piena collaborazione del prigioniero quindi Moro dice potrei parlare e Moretti dice sta parlando da quel momento il problema non è soltanto la vita di Moro la vita fisica dell'ostaggio ma da quel momento il problema è i segreti che Moro poteva stare raccontando alle Brigade Rosse e quindi secondo me in quel momento le intelligenze di tutto il mondo si attivano le intelligenze occidentali per coprire il segreto le intelligenze orientali per capire il segreto per sapere e quindi il problema diventa un problema politico complesso perché è vero che Moro poi nelle lettere ultime pone il problema in termini di salvezza della vita umana la vita non si deve sacrificare eccetera però all'inizio sembra dire guardate che la trattativa potrebbe essere anche politicamente più utile io vorrei porre questo problema a tutti voi se si fosse trattato i morti sarebbero stati di più o di meno questo è il vero nodo perché era una decisione politica che doveva essere assunta e quindi bisognava decidere che cosa conveniva politicamente le Brigitte Rosse secondo Moretti conoscono la loro fase più sanguinaria lui ha parlato di raccolto rosso ha citato Ammet Reddarmest quando capiscono che ucciso Moro poi non succede niente e allora entra in una fase di disperazione conoscono la fase più sanguinaria quindi uccidono una serie di persone d'altra parte se lo Stato avesse dimostrato debolezza c'era il pericolo che le Brigitte Rosse diventavano più forti secondo me nessuno ha capito qual era il vero pensiero di Moro che era il capo del partito della trattativa il pensiero di Moro era liberatemi ma liberatemi perché io a questo punto apro un processo politico che cerca di disinnescare la strategia della tensione la situazione degli anni 70 la notte della Repubblica lui era stato sempre un politico diciamo presbite che guardava lontano in quel momento forse perché parla con i brigadisti capisce chi sono capisce che ci hanno intorno non dietro ma intorno e secondo me lui intravede la possibilità di aprire una fase politica di superamento degli anni 70 della notte della Repubblica eccetera eccetera e quindi chiede liberatemi in questo senso tanto è vero che poi dice nel momento in cui io morirò tutto si avviterà e tutto si è avvitato grazie perché la la sconfitta delle brigade rosse è stata una repressione militare durissima con i poteri straordinari dati dalla Chiesa ma la situazione politica italiana si involve e conosce tutta la stagnazione degli anni 80 e noi ancora oggi il problema politico degli anni di piombo non siamo riusciti a risolverlo grazie presidente Federica Cincinnato se la risposta è stata più lunga le prossime saranno di nuovo brevissime è questo certo Federica Cincinnato l'avvocato Marazzita difensore della famiglia Moro afferma che lo Stato abbia comprato il silenzio di alcuni abricadisti detenuti su alcune rivelazioni rilasciate da Moro nell'interrogatorio in cambio di agevolazioni carcerarie siccome i brigadisti non hanno mai confermato ciò ci sono delle prove che confermano la dichiarazione sostenuta dall'avvocato della famiglia Moro difensore della famiglia Moro sono state come si dice scambiate dai brigadisti per una serie di vantaggi carcerarie e dallo Stato perché era bene che una serie di cose non si sapessero io provai a mandare un collega di Giliberti Remondino a parlare con Assolini e Bonisoli e disse ma insomma ormai una serie di cose io le ho capite perché non ce le venite a raccontare per esteso la risposta fu ma se noi facessimo quello che Pellegrino dice lui farebbe un figurone ma a noi che vantaggio ne verrebbe e quindi di a Pellegrino di non romperci più le scatole ah Serena Prezioso lei afferma che la DC aveva adottato la linea della fermezza e aveva respinto la possibilità di uno scambio dei prigionieri così i brigadisti storici detenuti proposero come alternativa il miglioramento delle condizioni carcerarie ma tale proposta non è stata sostituta da nessuno tantomeno da Craxi che pure era favorevole allo scambio dei prigionieri tutto ciò non le sembra contraddittorio Castronova allora questa cosa io l'ho chiesta direttamente a Guiso che era l'avvocato che all'interno diciamo del processo di Torino al nucleo storico delle Brigate Rossi difendeva molti brigadisti e Guiso mi ha detto che non corrisponde al vero anzi era molto arrabbiato con Alberto Franceschini che aveva rilasciato all'interno del libro scritto con Giovanni Fasanella questa dichiarazione quindi io infatti se non sbaglio poi dopo faccio questa correzione nel resto proprio i brigadisti in prigione dicevano a conferma di cosa si diceva prima dialettizzatevi con Moro il vero capo della trattativa fondamentalmente era Moro Maria Carmela Padula sulla possibile presenza di una componente esterna nel gioco della trattativa tra DC e BR per la liberazione di Moro lei invita a leggere gli articoli di Paolo Cucchiarelli pubblicati sul giornale Diario del 2003 di cosa si tratta? si tratta della vera essenza secondo me del caso Moro io in un paragrafo l'ultimo credo del capitolo delle trattative parlo dell'indicibilità a cui faceva riferimento il presidente Pellegrino nel blog parlo di indecifrabilità cioè ci sono delle cose indicibili ma non sono indecifrabili io credo e ho ragione di avere delle informazioni a tal senso che non è vero che non ci siano state trattative le trattative ci sono state sono state a livelli alti ci sono stati degli incontri diretti molto probabilmente tra esponenti delle istituzioni ed esponenti delle brigate rosse ci mancherebbe e quello che era un filone di chiesa che tra l'altro è la vera novità dell'intervista di Cossiga perché Cossiga ha fatto tutto un macello dicendo che mille comunisti sapere una prigione di Moro cosa falsa la cosa di Gallinari anche probabilmente non precisissima ma per lanciare un preciso filone di indagine che però a me risulta e il Presidente non so se mi conferma che nel 2004 dalla Procura di Roma è stato archiviato che è la famosa inchiesta sull'anello quindi non è vero secondo me che non ci siano state delle cose sono indecifrabili perché probabilmente se venissero oggi fuori crollerebbe una gran parte dell'assimplishment Noemi Vergari No forse il Presidente voleva aggiungere Sì prego prego Presidente Io sono perfettamente d'accordo con Castronuovo il problema è che nemmeno l'autorità giudiziaria vuole sapere Noi abbiamo mandato un materiale indagativo senza autocratificarmi però tu l'hai studiato di indubbio interesse che apriva soprattutto la pista fiorentina e in quel momento le indagini che non finivano mai su Moro perché si indagava sui due sulla onda che erano arrivati Pippo Pippa i cretini come li chiamo Etor immediatamente sono finiti io ho avuto la netta impressione di aver messo il dito su un nodo rovente e da quel momento tutto si è fermato quindi effettivamente probabilmente finché una serie di protagonisti della vicenda saranno ancora in vita noi che cosa veramente è successo non lo sapremo perché tu hai citato Antigone a me invece la vicenda Moro somiglia moltissimo a un romanzo di Marquez cronaca di una morte annunciata alla fine tutti fanno in modo che la cosa finisca male compresa la madre cronaca di una morte annunciata che gli chiude la porta in faccia quando i due che facevano di tutto per non ucciderla dicevano fermate mi fermate ma alla fine sono costretti ad uccider Noemi Vergari Giulia Calignano liceo classico Valmieri ah siamo ok allora nel testo emergono alcuni ambigui rapporti tra alcuni deputati di C e capi e l'organizzazione mafiosa io vorrei sapere se successivamente alla vicenda Moro siano state avviate commissioni di inchiesta o processi nei confronti appunto di questi deputati di questi rapporti Don Evole Urso va bene in quel momento se sono dette tante ognuno ha cercato anche di portare un suo contributo e a ricercare delle persone che potessero sbloccare la situazione che potessero c'è stato ci sono state anche sedute spiritiche e via di seguito cioè erano dei tentativi estremi che si che si compivano per cui non è che si possono mandare a processo queste persone che hanno tentato in qualche maniera di bucare i misteri delle brigate rosse io sono convinto che Moro comunque sarebbe stato ucciso dalle brigate rosse perché se c'è stata una gestione veramente come devo dire è così non allineata al caso da parte dall'autorità costituite anche alla gestione da parte delle brigate rosse in più di qualche momento è stata qualcosa di strano e le lotte tra di loro ci sono state non si sanno ma ci sono state anche perché proprio il giorno della morte c'era qualcuno che faceva parte del gruppo delle brigate rosse ma non sapeva che l'esecuzione era immediata tanto che io vorrei dire all'autore del libro vuoto a perdere forse non conveniva mettere un interrogativo è un'idea è un'idea Chiara Cataldo quanto crede di aver cambiato l'opinione pubblica con questo dossier così dettagliatamente articolato assolutamente niente io sono l'ultimo che può cambiare l'opinione pubblica io ho cercato di dare un contributo di conoscenza e di divulgazione in maniera innovativa ma salvo alcune acquisizioni che poi ci sono nel libro alcuni nomi che io ovviamente non faccio e spiego sul sito perché non faccio perché voglio dire non è evidentemente compito mio farli ci sono persone deputate che oggi lavorano in televisione che erano protagoniste di quell'incontro questo è importante anche dirlo c'era un tuo collega che era presente all'incontro di cui si faceva genno prima con Moretti e con Franco Piperno che oggi lavora in televisione quindi credo io di essere l'ultimo veramente arrivato che debba fare questi tipi di nomi Jacopo Madaro sempre per il Palmieri sì voglio chiedere all'autore dopo aver osservato i vari passaggi del testo e aver si nota la sua volontà di porsi interrogativi e dare risposte ben precise senza però prendere una posizione politica vorrei capire il perché di questo suo resoconto cronachistico e quasi asettico in cui non non formula mai un giudizio personale proprio perché non credo che il mio giudizio personale non essendo un operatore un osservatore privilegiato non essendo un protagonista avrebbe avuto più di tanto senso io quello che invece volevo era proprio che gli altri ponendosi delle domande fossero poi stimolati a darsi delle risposte e a discutere io ricevo molte mail private da parte di lettori è capitata una cosa incredibile non mi sarei mai aspettato che due lettori nello stesso giorno una domenica poco prima del ponte delle festività dei morti sono andati a Viafani per verificare alcune cose che avevo scritto uno mi ha mandato addirittura delle foto di un boschetto dove è tagliata quella catena per fare delle ipotesi e abbiamo email lunghissime a cui ho perduto un sacco di tempo per scrivere bene questo era l'obiettivo non era l'obiettivo di avere la presunzione di salire in cattedra e dire qualche cosa era semplicemente di stimolare poi un pubblico diverso e una discussione diversa pubblico che magari non era non era ferrato sull'argomento e che magari non c'era proprio fisicamente negli anni 70 perché la data di nascita è anni 80 o anni 90 quella poi è l'operazione più importante che può fare questo libro e anche il il prodotto online di questo sito su votaperdere.org Marco Nuzzo sempre per il parmiero buongiorno io volevo porre una domanda al presidente Pellegrino in quanto rappresentante delle istituzioni quest'oggi in questi 30 anni diciamo che è emersa più o meno la volontà o l'incapacità di fare chiarezza su alcuni punti oscuri della vicenda Moro io volevo sapere secondo lei cioè non le pare che le ripercussioni sulla società siano stati che magari si sia cementificata l'idea che la società sia solamente quasi una conservazione violenta di equilibrio e potere un livello di legalità dell'avestità dell'alegra insomma mi sento bene devi articolare meglio la domanda allora volevo chiederle insomma questa incapacità questa anche mancanza di volontà di fare chiarezza su alcuni punti oscuri della vicenda non abbia avuto delle ripercussioni proprio sulla società ovvero si siano andati a minare già i quei labili legami che mantiene unita la comunità italiana se non si sia cementificata l'idea o si sia dato campo alla concezione che la società sia solamente una violenta conservazione di equilibrio e potere dell'illegalità attraverso l'illegalità questa mi sembrerebbe una conclusione eccessiva la verità che quello di Moro è un regicidio l'uomo politico più importante del paese viene rapito da un gruppo terrorista viene tenuto prigioniero 55 giorni e viene ucciso che intorno a questo non si faccia interamente chiarezza non deve sorprendere sappiamo tutto sull'omicidio Kennedy chi è che crede che veramente Kennedy sia stato ucciso solo da Oswald chi è che crede a quella pallottola impazzita che va avanti va indietro uccide Kennedy ferisce quello che stava seduto avanti eccetera eccetera ma pure sull'uccisione di Umberto II ci sono tanti punti di marginalità una vicenda di una complessità politica enorme che ancora oggi permangano ambiti di ambiguità di oscurità che però non sono dei tempi marginali secondo me è abbastanza normale fa parte della storia ancora adesso ci domandiamo ogni tanto c'è un libro che dice ma Napoleone a Sant'Ele morì di malattia o fu lentamente avvelenato dall'arsenico quindi ci sono Thomas Mann nella prefazione della saga di Giuseppe sui fratelli dice senza fondo il pozzo della storia dovremmo forse per questo dirlo insondabile io penso che con il tempo tasselli di verità emergeranno il quadro diventerà più chiaro più completo però questo non deve giustificare niente non giustifica niente il problema dell'illegalità in Italia ha altre radici non penso che se sapessimo tutto sul caso moro improvvisamente diventeremmo un paese migliore è vero che non si è capito tutto è vero che ci sono nervi dolenti che non possono essere toccati probabilmente c'è anche qualche prezzo di impunità prezzo di impunità che è stata pagata persone che sapevano che erano contigue le Brigade Rosse che hanno parlato con Dalla Chiesa che hanno consentito a Dalla Chiesa di fare quella zona repressiva durissima ed efficacissima che dalla Chiesa fecero però in cambio hanno contrattato l'impunità però era una guerra diciamo la guerra si vince anche con altri mezzi come tutto questo però non giustifica la situazione politica italiana la verità è che la politica italiana ha perduto moltissimo con la morte di Moro Moro era un politico presbite guardava lontano prefigurava sempre scenari che si sarebbero realizzati dopo qualche anno lui è morto tutto questo è finito e noi oggi abbiamo una politica che è legata alla quotidianità perché tutti i politici sono sempre preoccupati se quello che stanno dicendo in questo momento la sera poi li fa salire li fa scendere l'indice di popolarità se è gradito o non è gradito la politica deve sapersi nutrire anche di pensieri lunghi diciamo che in Italia questa capacità l'abbiamo purtroppo perduta e che Moro la perdita di Moro ha molto segnato la storia della prima repubblica è stata una storia dinamica estremamente dinamica fino alla morte di Moro poi abbiamo avuto la stagnazione degli anni Ottanta e poi abbiamo avuto questa seconda repubblica che sta sempre in mezzo al guado e forse risolve la transizione tornando dalla sponda da quella partita Erika Scarano vorrei chiedere delle delucidazioni in merito al comportamento dello Stato riguardo alla faccenda Moro poiché sembra più impegnarsi a evitare che le informazioni che Moro avrebbe potuto trasmettere alle Brigate Rosse piuttosto che a salvargli la vita Tonio Tondo Ma lo Stato L'ha sfiorato prima questo argomento Sì però ma Moro sapeva veramente aveva veramente segreti della Nato io io non penso che Moro sia sia una persona sia stata una persona che sì lui aveva rapporti con esponenti per esempio dei servizi segreti ma più per una questione di sicurezza personale non per avere i segreti della Nato no io non penso che Moro fosse una di quelle figure se mi chiedono di Cossiga può darsi Cossiga sì perché lui ha proprio la passione di di conoscere queste cose ma Moro proprio no secondo me lo Stato non ha trattato io ho seguito le cose che ha detto Giovanni Pellegrino per sua debolezza cioè per sua debolezza ci sono state esperienze di scambi di prigionieri ma lo Stato italiano non era forte aveva paura di trattare è vero che c'era stata l'uccisione dei comprenditi della scorta per cui c'è stata una grande reazione popolare sicuramente questo è vero però secondo me è perché le istituzioni italiane erano troppo deboli non potevano permettersi il lusso di trattare avevano bisogno del sacrificio di Moro non è solo un reggicidio secondo me è anche un sacrificio per rafforzare i poteri dello Stato grazie a tono tondo Marina Cillus si dice che al caso Moro è legata il volto politico dell'Italia che si è cambiato proprio in seguito alla morte di Moro e che quindi di conseguenza sia collegata alla fine della prima repubblica il fallimento del compromesso storico mi rivolgo all'autore che cosa pensa che sarebbe accaduto se Moro non fosse stato ucciso oltre all'autore su questo vorrei sentire anche l'onorevole Urso il mio sarebbe un semplice giudizio personale quindi penso che non conti molto forse più l'onorevole Urso avendo vissuto diciamo politicamente quegli anni la domanda è legittima però andare a capire che cosa sarebbe accaduto se Moro fosse stato vivo mi pare entrare nel mistero ancora di più nel mistero perché è stato preso Moro perché è stato ucciso e forse avremmo risolto anche in maniera molto lineare tutti questi accadimenti certamente come ha detto già il presidente Pellegrino la uccisione di Moro ancora oggi ecco e che già quando tutto manca vengono fuori tutti questi libri con tutti questi libri viene anche la curiosità tra virgolette dei giovanissimi di capire questo questo momento così travagliato però ecco io non credo che tutto quello che è avvenuto dopo l'uccisione di Moro sia avvenuto solamente per l'uccisione di Moro i scenari sono cambiati perché sono cambiati anche gli scenari internazionali e vorrei dire a Tonio Tondo che la tesi che Moro non conoscesse quelli che potevano essere come devo dire dei disegni strategici riservatissimi della Nato è una tesi che ha portato avanti anche nell'ultima intervista vista il presidente Cossica questo però non mi convince perché un presidente del Consiglio e oltretutto attenzione un presidente del Consiglio che sembrava a prima vista quando si parlava distratto ma che niente meno riusciva certe volte nell'interloquire a citare cose che erano accadute a Lecce a Bergamo altrove in maniera molto minuziosa che un presidente del Consiglio non possedesse in sé tutto quello che riguardava la difesa atlantica gli scopi le prospettive e via di seguito la verità vera la verità anzi non diciamo la verità vera perché visto che stiamo in questo magma di incertezza ecco perché parlavo dell'interrogativo sul titolo del suo libro la verità vera è che si vantano tanto le le bricate rosse di aver compiuto questo rapimento e questa uccisione però lì hanno trovato pure la loro insufficienza e la loro tomba non tanto per la fermezza dello Stato ma per l'incompiutezza loro che sì erano dei guerriglieri politici che volevano fare questo atto che è stato eclatante e crudele ma non è che sono stati molto all'altezza anche perché continuano ad essere reticenti e in certo modo anche dei vigliacchi grazie onorevole abbiamo quasi concluso l'ultima domanda è quella di Gaia Giannone e poi le conclusioni da parte di Maglio Castanone volevo chiedere all'autore chi sono i destinatari dell'opera nello specifico per chi l'ha scritta diciamo io forse per deformazione professionale occupandomi di marketing mi chiedo sempre chi è poi il cliente che deve apprezzare un certo tipo di prodotto quindi ho cercato di rivolgermi non necessariamente alla persona esperta ma a portare una persona da una semplice passione come era quella mia a voler entrare nei fatti senza però avere la pretesa di voler dare prima delle risposte tant'è vero che la struttura è a domande non è a risposte cioè non si conclude con la risposta e quindi un pubblico che vuole avvicinarsi magari forse grazie a una struttura leggera anche non sapendo nulla no assolutamente anzi molti di quelli che mi hanno scritto mi hanno semplicemente detto delle semplici passioni ho iniziato altri libri sul caso Moro però in realtà poi diventavano pesanti sì uno mi ha detto di dire dei mattoni perché ma non per la non bravura dell'autore intendiamoci perché le strutture utilizzate da storici da politici o comunque da altri personaggi che fanno dei lavori per asper sono da detti allevori io non volevo rivolgermi a detti ai lavori anche perché non sono un addetto ai lavori e quindi il mio tentativo è stato quello di parlare partendo dai fatti e mettendo insieme l'evoluzione delle cose grazie a Maglio Castronuovo vuoto a perdere vese edizioni grazie al collega Antonio Tondo grazie all'onorevole Urso grazie al presidente Pellegrino ma soprattutto grazie a voi per l'attenzione Open è stato presentato da Sveag concessionaria Volkswagen a Lecce e Maglie Filanto Store a spasso per il futuro Italcantieri S.P.A. costruttori di energia alternativa capisce che ci hanno intorno non dietro ma intorno e secondo me lui intravede la possibilità di aprire una fase politica di superamento degli anni 70 della notte della Repubblica eccetera eccetera e quindi chiede liberatemi in questo senso tanto è vero che poi dice nel momento in cui io morirò tutto si avviterà e tutto si è avvitato grazie presidente perché la sconfitta delle Brigade Rosse è stata una repressione militare durissima con i poteri straordinari dati dalla Chiesa ma la situazione politica italiana si involve e conosce tutta la stagnazione degli anni 80 e noi ancora oggi il problema politico degli anni di Piombo non siamo riusciti a risolverlo grazie presidente Federica Cincinnato se l'avvocato è stata più lunga le prossime saranno di nuovo brevissime ma se non discutiamo se ne ha letto questo è questo certo Federica Cincinnato l'avvocato Marazzita difensore della famiglia Moro afferma che lo Stato abbia comprato il silenzio di alcuni brigadisti detenuti su alcune rivelazioni rilasciate da Moro nell'interrogatorio in cambio di agevolazioni carcerarie siccome i brigadisti non hanno mai confermato ciò ci sono delle prove che confermano la dichiarazione sostenuta dall'avvocato della famiglia Moro difensore della famiglia Moro al di là di ogni dubbio è stato stretto in particolare da piccoli quello che io chiamo il patto di indicibilità una serie di particolari sulle trattative che ci sono state perché poi tutti la trattativa non c'è stata è vero ci sono state diverse trattative sono state come si dice scambiate dai brigadisti per una serie di vantaggi carcerarie e dallo Stato perché era bene che una serie di cose non si sapessero io provai a mandare un collega di Giliberti Remondino a parlare con Assolini e Bonisoli e disse ma insomma ormai una serie di cose io le ho capite perché non ce le venite a raccontare per esteso la risposta fu ma se noi facessimo quello che Pellegrino dice lui farebbe un figurone ma a noi che vantaggio ne verrebbe e quindi di a Pellegrino di non romperci più le scatole ah Serena Prezioso lei afferma che la DC aveva adottato la linea della fermezza e aveva respinto la possibilità di uno scambio dei prigionieri così i brigadisti storici detenuti proposero come alternativa il miglioramento delle condizioni carcerarie ma tale proposta non è stata sostituta da nessuno tantomeno da Craxi che pure era favorevole allo scambio dei prigionieri tutto ciò non le sembra contraddittorio Castronova allora questa cosa io l'ho chiesta direttamente a Guiso che era l'avvocato che all'interno diciamo del processo di Torino al nucleo storico delle Brigade Rosse difendeva molti brigadisti e Guiso mi ha detto che non corrisponde al vero anzi era molto arrabbiato con Alberto Franceschini che aveva rilasciato all'interno del libro scritto con Giovanni Fasanella questa dichiarazione quindi io infatti se non sbaglio poi dopo faccio questa correzione nel resto proprio i brigadisti in prigione dicevano a conferma di cosa si diceva prima dialettizzatevi con Moro il vero capo della trattativa fondamentalmente era Moro Maria Carmela Padula sulla possibile presenza di una componente esterna nel gioco della trattativa tra DC e BR per la liberazione di Moro le invita a leggere gli articoli di Paolo Cucchiarelli pubblicati sul giornale diario del 2003 di cosa si tratta? si tratta della vera essenza secondo me del caso Moro io in un paragrafo l'ultimo credo del capitolo delle trattative parlo dell'indicibilità a cui faceva riferimento il Presidente Pellegrino nel blog parlo di indecifrabilità cioè ci sono delle cose indicibili ma non sono indecifrabili io credo e ho ragione di avere delle informazioni a tal senso che non è vero che non ci siano state trattative le trattative ci sono state sono state a livelli alti ci sono stati degli incontri diretti molto probabilmente tra esponenti delle istituzioni ed esponenti delle brigate rosse ci mancherebbe e quello che era un filone di inchiesta che tra l'altro è la vera novità dell'intervista di Cossiga perché Cossiga ha fatto tutto un macello dicendo che mille comunisti saperono la prigione di Moro cosa falsa la cosa di Gallinari anche probabilmente non precisissima ma per lanciare un preciso filone di indagine che però a me risulta il Presidente non so se mi conferma che nel 2004 dalla Procura di Roma è stato archiviato che è la famosa inchiesta sull'anello quindi non è vero secondo me che non ci siano state sono indecifrabili perché probabilmente se venissero oggi fuori crollerebbe una gran parte dell'assimplishment noi mi vergari forse il Presidente voleva aggiungere sì prego prego Presidente io sono perfettamente d'accordo con Castronuovo il problema è che nemmeno l'autorità giudiziaria vuole sapere noi abbiamo mandato un materiale indagativo senza autocratificarmi però tu l'hai studiato di indubbio interesse che apriva soprattutto la pista fiorentina e in quel momento le indagini che non finivano mai su Moro perché si indagava sui due sulla onda che erano arrivati Pippo Pippa i cretini come li chiamò Etor immediatamente sono finiti io ho avuto la netta impressione di aver messo il dito su un nodo rovente e da quel momento tutto si è fermato quindi effettivamente probabilmente finché una serie di protagonisti della vicenda saranno ancora in vita noi che cosa veramente è successo non lo sapremo perché tu hai citato Antigone a me invece la vicenda Moro somiglia moltissimo a un romanzo di Marchez cronaca di una morte annunciata alla fine tutti fanno in modo che la cosa finisca male compresa la madre cronaca di una morte annunciata che gli chiude la porta in faccia quando i due che facevano di tutto per non ucciderla dicevano fermate mi fermate ma alla fine sono costretti ad uccidere noi mi vergari Giulia Calignano liceo classico Valmieri ah siamo ok sì allora nel testo emergono alcuni ambigui rapporti tra alcuni deputati di C e capi e l'organizzazione mafiosa io vorrei sapere se successivamente alla vicenda Moro siano state avviate commissioni di inchiesta o processi nei confronti appunto di questi deputati di questi rapporti Don Evole Urso va bene in quel momento se sono dette tante ognuno ha cercato anche di portare un suo contributo e a ricercare delle persone che potessero sbloccare la situazione che potessero c'è stato ci sono state anche sedute spiritiche e via di seguito cioè erano dei tentativi estremi che si che si compivano per cui non è che si possono mandare a processo queste persone che hanno tentato in qualche maniera di bucare i misteri delle Brigate Rosse io sono convinto che Moro comunque sarebbe stato ucciso dalle Brigate Rosse perché se c'è stata una gestione veramente come devo dire così non allineata al caso da parte dell'autorità costituite anche alla gestione da parte delle Brigate Rosse in più di qualche momento è stata qualcosa di strano e le lotte tra di loro ci sono state non si sanno ma ci sono state anche perché proprio il giorno della morte c'era qualcuno che faceva parte del gruppo delle Brigate Rosse ma non sapeva che l'esecuzione era immediata tanto che io vorrei dire all'autore del libro vuoto a perdere forse non conveniva mettere un interrogativo è un'idea è un'idea Chiara Cataldo quanto crede di aver cambiato l'opinione pubblica con questo dossier così dettagliatamente articolato assolutamente niente io sono l'ultimo che può cambiare l'opinione pubblica io ho cercato di dare un contributo di conoscenza e di divulgazione in maniera innovativa ma salvo alcune acquisizioni che poi ci sono nel libro alcuni nomi che io ovviamente non faccio e spiego sul sito perché non faccio perché voglio dire non è evidentemente compito mio farli ci sono persone deputate che oggi lavorano in televisione che erano protagoniste di quell'incontro questo è importante anche dirlo c'era un tuo collega che era presente all'incontro di cui si faceva genno prima con Moretti e con Franco Piperno che oggi lavora in televisione quindi credo io di essere l'ultimo veramente arrivato che debba fare questi tipi di nomi Jacopo Madaro sempre per il Palmieri sì voglio chiedere all'autore dopo aver osservato i vari passaggi del testo e aver si nota la sua volontà di porsi interrogativi e dare risposte ben precise senza però prendere una posizione politica vorrei capire il perché di questo suo resoconto cronachistico e quasi asettico in cui non formula mai un giudizio personale proprio perché non credo che il mio giudizio personale non essendo un operatore un osservatore privilegiato non essendo un protagonista avrebbe avuto più di tanto senso io quello che invece volevo era proprio che gli altri ponendosi delle domande fossero poi stimolati a darsi delle risposte e a discutere io ricevo molte mail private da parte di lettori è capitata una cosa incredibile non mi sarei mai aspettato che due lettori nello stesso giorno una domenica poco prima del ponte delle festività dei morti sono andati a Viafani per verificare alcune cose che avevo scritto uno mi ha mandato addirittura delle foto di un boschetto dove è tagliata quella catena per fare delle ipotesi abbiamo email lunghissime a cui ho perduto un sacco di tempo per scrivere bene questo era l'obiettivo non era l'obiettivo di avere la presunzione di salire in cattedra e dire qualche cosa era semplicemente di stimolare poi un pubblico diverso e una discussione diversa pubblico che magari non era non era ferrato sull'argomento e che magari non c'era proprio fisicamente negli anni 70 perché la data di nascita è anni 80 o anni 90 quella poi è l'operazione più importante che può fare questo libro e anche il prodotto online di questo sito su votaperdere.org Marco Nuzzo sempre per il parmiero buongiorno io volevo porre una domanda al presidente Pellegrino in quanto rappresentante delle istituzioni quest'oggi in questi 30 anni diciamo che è emersa più o meno la volontà o l'incapacità di fare chiarezza su alcuni punti oscuri della vicenda Moro io volevo sapere secondo lei cioè non le pare che le ripercussioni sulla società siano state di chi è magari si sia cementificata l'idea che la società sia solamente quasi una conservazione violenta di equilibrio e potere un livello di legalità dell'avestità della legalità insomma mi sento bene devi articolare meglio la domanda allora volevo chiederle insomma questa incapacità questa anche mancanza di volontà di fare chiarezza su alcuni punti oscuri della vicenda non abbia avuto delle ripercussioni proprio sulla società ovvero si siano andati a minare già i quei labili legami che mantiene unita la comunità italiana se non si sia cementificata l'idea o si sia dato campo alla concezione che la società sia solamente una violenta conservazione di equilibrio e potere dell'illegalità attraverso l'illegalità questa mi sembrerebbe una conclusione eccessiva la verità che quello di Moro è un regicidio l'uomo politico più importante del paese viene rapito da un gruppo terrorista viene tenuto prigioniero 55 giorni e viene ucciso che intorno a questo non si faccia interamente chiarezza non deve sorprendere sappiamo tutto sull'omicidio Kennedy chi è che crede che veramente Kennedy sia stato ucciso solo da Oswald chi è che crede a quella pallottola impazzita che va avanti va indietro uccide Kennedy ferisce quello che stava seduto avanti eccetera eccetera ma pure sull'uccisione di Umberto II ci sono tanti punti di marginalità una vicenda di una complessità politica enorme che ancora oggi permangano ambiti di ambiguità di oscurità che però non sono dei tempi marginali secondo me è abbastanza normale fa parte della storia ancora adesso ci domandiamo ogni tanto c'è un libro che dice ma Napoleone a Sant'Ele namorì di malattia o fu lentamente avvelenato dall'arsenico quindi ci sono Thomas Mann nella prefazione della saga di Giuseppe e sui fratelli dice senza fondo il pozzo della storia dovremmo forse per questo dirlo insondabile io penso che con il tempo tasselli di verità emergeranno il quadro diventerà più chiaro più completo però questo non deve giustificare niente non giustifica niente il problema dell'illegalità in Italia ha altre radici non penso che se sapessimo tutto sul caso Moro improvvisamente diventeremmo un paese migliore è vero che non si è capito tutto è vero che ci sono nervi dolenti che non possono essere toccati probabilmente c'è anche qualche prezzo di impunità prezzo di impunità che è stata pagata persone che sapevano che erano contigue alle brigate rosse che hanno parlato con Dalla Chiesa che hanno consentito a Dalla Chiesa di fare quell'azione repressiva durissima ed efficacissima che Dalla Chiesa fecero però in cambio hanno contrattato l'impunità però era una guerra diciamo la guerra si vince anche con altri mezzi come noi tutto questo però non giustifica la situazione politica italiana la verità è che la politica italiana ha perduto moltissimo con la morte di Moro Moro era un politico presbite guardava lontano prefigurava sempre scenari che si sarebbero realizzati dopo qualche anno lui è morto tutto questo è finito e noi oggi abbiamo una politica che è legata alla quotidianità perché tutti i politici sono sempre preoccupati se quello che stanno dicendo in questo momento la sera poi li fa salire li fa scendere l'indice di popolarità se è gradito o non è gradito la politica deve sapersi nutrire anche di pensieri lunghi diciamo che in Italia questa capacità l'abbiamo purtroppo perduta e che Moro la perdita di Moro ha molto segnato la storia della prima repubblica è stata una storia dinamica estremamente dinamica fino alla morte di Moro poi abbiamo avuto la stagnazione degli anni 80 e poi abbiamo avuto sta seconda repubblica che sta sempre in mezzo al guado e forse risolve la transizione tornando dalla sponda da quella partita Erika Scarano vorrei chiedere delle delucidazioni in merito al comportamento dello Stato riguardo alla faccenda Moro poiché sembra più impegnarsi a evitare che le informazioni che Moro avrebbe potuto trasmettere alle Brigate Rosse piuttosto che a salvargli la vita Antonio Tondo ma lo Stato l'ha sfiorato prima questo argomento ma Moro sapeva veramente aveva veramente segreti della Nato io non penso che Moro sia una persona sia stata una persona che sì lui aveva rapporti con esponenti per esempio dei servizi segreti ma più per una questione di sicurezza personale non per avere i segreti della Nato no io non penso che Moro fosse una di quelle figure se mi chiedono di Cossiga può darsi Cossiga sì perché lui ha proprio la passione di conoscere queste cose ma Moro proprio no secondo me lo Stato non ha trattato io ho seguito le cose che ha detto Giovanni Pellegrino per sua debolezza cioè per sua debolezza ci sono state esperienze di scambi di prigionieri ma lo Stato italiano non era forte aveva paura di trattare è vero che c'era stata l'uccisione dei comprenditi della scorta per cui c'era stata una grande reazione popolare sicuramente questo è vero però secondo me perché le istituzioni italiane erano troppo deboli non potevano permettersi il lusso di trattare avevano bisogno del sacrificio di Moro non è solo un reggicidio secondo me è anche un sacrificio per rafforzare i poteri dello Stato grazie a tono tondo Marina Cillus si dice che al caso Moro è legata il volto politico dell'Italia che si è cambiato proprio in seguito alla morte di Moro e che quindi di conseguenza sia collegata alla fine della prima repubblica il fallimento del compromesso storico mi rivolgo all'autore che cosa pensa che sarebbe accaduto se Moro non fosse stato ucciso oltre all'autore su questo vorrei sentire anche l'onorevole Urso il mio sarebbe un semplice giudizio personale quindi penso che non conti molto forse più l'onorevole Urso avendo vissuto diciamo politicamente quegli anni la domanda è legittima però andare a capire che cosa sarebbe accaduto se Moro fosse stato vivo mi pare entrare nel mistero ancora di più nel mistero perché è stato preso Moro perché è stato ucciso e forse avremmo risolto anche in maniera molto lineare tutti questi accadimenti certamente come ha detto già il presidente Pellegrino la uccisione di Moro ancora oggi ecco e che già quando tutto manca vengono fuori tutti questi libri con tutti questi libri viene anche la curiosità tra virgolette dei giovanissimi di capire questo questo momento così travagliato però ecco io non credo che tutto quello che è avvenuto dopo l'uccisione di Moro sia avvenuto solamente per l'uccisione di Moro i scenari sono cambiati perché sono cambiati anche gli scenari internazionali e vorrei dire a Tonio Tondo che la tesi che Moro non conoscesse quelli che potevano essere come devo dire dei disegni strategici riservatissimi della Nato è una tesi che ha portato avanti anche nell'ultima conferenza nell'ultima intervista il presidente Cossica questo però non mi convince perché un presidente del Consiglio e oltretutto attenzione un presidente del Consiglio che sembrava a prima vista quando si parlava distratto ma che niente meno riusciva certe volte nell'interloquire a citare cose che erano accadute a Lecce a Bergamo altrove in maniera molto minuziosa che un presidente del Consiglio non possedesse in sé tutto quello che riguardava la difesa atlantica gli scopi le prospettive e via di seguito la verità vera la verità anzi non diciamo la verità vera perché visto che stiamo in questo magma di incertezza ecco perché parlavo dell'interrogativo sul titolo del suo libro la verità vera è che si vantano tanto le le bricate rosse di aver compiuto questo rapimento e questa uccisione però lì hanno trovato pure la loro insufficienza e la loro tomba non tanto per la fermezza dello Stato ma per l'incompiutezza loro che sì erano dei guerriglieri politici che volevano fare questo atto che è stato eclatante e crudele ma non è che sono stati molto all'altezza anche perché continuano ad essere reticenti e in certo modo anche dei vigliacchi grazie onorevole abbiamo quasi concluso l'ultima domanda è quella di Gaia Giannone e poi le conclusioni da parte di Maglio Castanone volevo chiedere all'autore chi sono i destinatari dell'opera nello specifico per chi l'ha scritta diciamo io forse per deformazione professionale occupandomi di marketing mi chiedo sempre chi è poi il cliente che deve apprezzare un certo tipo di prodotto quindi ho cercato di rivolgermi non necessariamente alla persona esperta ma a portare una persona da una semplice passione come era quella mia a voler entrare nei fatti senza però avere la pretesa di voler dare prima delle risposte tant'è vero che la struttura è a domande non è a risposte cioè non si conclude con la risposta e quindi un pubblico che vuole avvicinarsi magari forse grazie a una struttura leggera anche non sapendo nulla no assolutamente anzi molti di quelli che mi hanno scritto mi hanno semplicemente detto delle semplici passioni ho iniziato altri libri sul caso Moro però in realtà poi diventavano pesanti sì uno mi ha detto di dire dei mattoni perché ma non per la non bravura dell'autore intendiamoci perché le strutture utilizzate da storici da politici o comunque da altri personaggi che fanno dei lavori per asper sono da detti allevori io non volevo rivolgermi a dei detti ai lavori anche perché non sono un addetto ai lavori e quindi il mio tentativo è stato quello di parlare partendo dai fatti e mettendo insieme l'evoluzione delle cose grazie a Maglio Castronuovo vuoto a perdere vese edizioni grazie al collega Antonio Tondo grazie all'onorevole Urso grazie al presidente Pellegrino ma soprattutto grazie a voi per l'attenzione grazie a tutti grazie a tutti